Siamo in compagnia di Giampaolo Galli, osservatorio sui conti pubblici Università Cattolica. Buon pomeriggio, ben ritrovato. Buongiorno a voi. Il duello tra Italia Viva e l'amministrazione Conte si inasprisce sempre di più, secondo quanto appunto riporta la stampa in questi ultimi istanti. Quale secondo lei è la soluzione più sobria in questo momento? Siamo in piena pandemia e sicuramente gli italiani sono stanchi di questi conflitti all'interno della maggioranza, soprattutto in un momento così delicato per il Paese. Intanto penso che debba essere approvato il piano per il recovery fund o facility, per meglio dire, in maniera tale che poi si possa aprire una discussione che rapidamente porti ai progetti che entro aprile devono essere presentati alla Commissione. Dopodiché credo che se si dovesse arrivare addirittura ad elezioni anticipate, cosa che ritengo estremamente improbabile, questo renderebbe davvero difficile rispettare i tempi per la presentazione del piano e quindi oltre che rendere complicato quella cosa fondamentale che deve essere fatta in questo momento, cioè il piano per i vaccini che deve essere assolutamente accelerato, sennò rischiamo di non arrivare all'estate ancora con la pandemia e quindi sarebbe anche un disastro per l'economia. Dopodiché si tratta, ognuno può fare la sua previsione, io non ho la palla di vetro, immagino che la conclusione sarà un qualche rimpasto di governo, qualche cambiamento di ministri, ma ripeto, ritengo molto molto improbabile perché non è interesse di nessuno della maggioranza arrivare fino ad una rottura e quindi allo scioglimento delle Camere, deciso ovviamente dal Presidente della Repubblica. Ecco invece, lei ha toccato un argomento molto importante, ovvero la distribuzione dei vaccini è molto importante, anche tra l'altro ci tenevo a sottolineare per i nostri telespedatori che anche il vaccino di Moderna è arrivato, molto probabilmente alla fine di gennaio ci sarà anche l'autorizzazione del vaccino di AstraZeneca. Sino a questo momento lei come valuta l'operato del governo per quanto appunto concerne la distribuzione dei vaccini, considerando anche i scandali che sono successi, per esempio con le persone vicine ai dottori, magari anche ai lavoratori sanitari? Ma nel compresso mi pare che diciamo nel confronto anche con gli altri paesi stiamo andando abbastanza bene, però ho sentito, mi pare il commissario ha detto che arriveremo a marzo con 5 milioni di persone vaccinate. Io spero che si possa vaccinare molta più gente entro marzo, quindi credo che bisogna davvero accelerare, è una priorità assoluta, perché ripeto non esiste ripresa dell'economia, ma anche il recovery plan assume che ci siano dei soldi che vengono spesi già quest'anno e che già quest'anno hanno un effetto moltiplicatore sul prodotto interno lordo, quindi sull'economia. Se però non vacciniamo la gente tutto questo credo che non esista, quindi bene fino adesso, ma bisogna avere piani più ambiziosi. Ecco invece da Palazzo Chigi si fa sapere che se il leader di Italia Viva Matteo Renzi si assumerà la responsabilità di una crisi di governo in piena pandemia, per il Presidente Giuseppe Conte sarà impossibile rifare un nuovo esecutivo con il sostegno di Italia Viva. Ciò che vuole Renzi adesso, almeno la sua ultima esigenza, è l'utilizzo del MES. Lei che cosa ne pensa riguardo a questa proposta di utilizzare il MES adesso che molto probabilmente verso la metà dell'anno dovrebbero arrivare già ai fondi del recovery? Ha senso? Sì, dunque, io ero favorevole fin dall'inizio all'utilizzo del MES, sarebbe stato meglio utilizzarli l'anno scorso quando i tassi di interesse italiani, sui titoli italiani, erano più alti, quindi il vantaggio era maggiore, ma ancora adesso avremmo un vantaggio in termini di minore costo per interessi rispetto all'indebitamento sul mercato. Quindi sì, non ne farei una ragione di crisi di governo, francamente. A me sembra evidente che il no al MES è una questione assolutamente simbolica, di principio, priva di motivazioni serie da parte del Movimento 5 Stelle. Ciò nonostante mi sembra un po' eccessivo farne una questione di vita o di morte per il governo dal momento che abbiamo queste altre fonti di finanziamento che sono quelle del Recovery Fund, del Next Generation EU e abbiamo gli acquisti che sta facendo la Banca Centrale Europea. Quindi sì, sarebbe giusto farlo, sarebbe sbagliato far cadere il governo per questo. Sì, assolutamente sì, appunto anche ora che stiamo assistendo i rendimenti dei BTP, soprattutto il decenale ma anche il trentenale, ai minimi storici. Intanto andiamo a vedere la nuova stretta anti-Covid, un tema molto importante perché abbiamo visto che ci sarà divieto all'asporto per bar e ristoranti dopo le 18. Poi c'è anche il problema con i studenti, con le scuole e tanti altri. Il Conte intanto dice, arriva in penata, non è facile ancora a sacrifici. Ciò che dà fastidio sicuramente agli italiani è il fatto che Conte aveva detto ancora a novembre, a fine ottobre, facciamo il sacrificio per salvare le feste, ovvero il Natale, in particolar modo poi ovviamente abbiamo visto come è andato il Natale, abbiamo visto come è andato il Capodanno e non solo. Quindi bisogna fare altri sacrifici. Quanto tempo? Per quanto tempo possono continuare i governi europei in particolar modo? Perché negli Stati Uniti la situazione è diversa a livello di lockdown. Per quanto tempo possono continuare con queste misure restrittive perché tanti locali non riapriranno più? Sicuramente la situazione dell'economia e in particolare di tantissime piccole imprese, bar, ristoranti, tutta la filiera del turismo, gli alberghi, eccetera, i trasporti aerei e così via, è una situazione molto grave. Credo che sia assolutamente vero quello che era scritto in quel rapporto fatto e presentato da Mario Draghi, cioè che c'è una, oltre alla crisi economica che vediamo, c'è una crisi latente dovuta al fatto che ci sono, c'è una miriade di imprese che probabilmente non riusciranno a sopravvivere a tutte queste restrizioni, in Italia come in tutta Europa. Quindi questa è una situazione davvero difficile. Credo che, come dire, l'Italia non sia diversa a questo punto dagli altri paesi europei. Tutti gli altri paesi europei hanno assunto delle misure restrittive, lo hanno fatto all'ultimo minuto, perché si cerca fino all'ultimo minuto di evitarle o comunque di ridurle al minimo, perché occorre una negoziazione complicata con i poteri locali. Insomma la Germania forse, come dire, ha fatto le cose un po' meglio di noi, ma abbiamo visto in Inghilterra Boris Johnson prendere delle decisioni all'ultimo minuto quando ha visto che c'era questa variante inglese estremamente contagiosa. Io ho l'impressione che lo stesso succederà adesso negli Stati Uniti, perché i morti e i contagiati negli Stati Uniti stanno crescendo e sono a livelli elevatissimi. Cioè le intende con la nuova amministrazione Biden-Harris? Sì, credo di sì, credo che a questo punto, naturalmente le decisioni le pigliano gli Stati e le comunità locali negli Stati Uniti, però l'impulso da parte del Presidente credo che sarà importante, quindi credo che aumenteranno le restrizioni anche negli Stati Uniti. Ultimissima domanda che riguarda ovviamente gli studenti italiani che scioperano e chiedono di tornare in aula. Intanto la Ministra Zolina insiste per ripartire dicendo che la DAD non funziona più. Qual è la sua posizione sul ritorno dei studenti in aula? Guardi, sarebbe opportuno farli tornare in aula, naturalmente, se però non si riesce a risolvere il problema dei trasporti e questo richiederebbe di fare i turni, cioè qualcuno entra alle 8, qualcuno entra alle 9, qualcuno entra alle 10, in maniera tale da scaglionare gli ingressi e scaglionare le uscite, questa cosa non la si riesce a organizzare con gli insegnanti perché gli insegnanti dicono di no, i loro sindacati dicono di no. Un'altra possibilità sarebbe quella di dire va bene, adesso si fa la didattica a distanza e poi le scuole continuano a luglio, per esempio, perché devono finire a giugno in tantissimi altri paesi che finiscono a luglio e perché no ad agosto. Quindi, francamente, questa protesta mi sembra un pochettino non tanto giustificata se non si riescono a mettere in campo delle soluzioni intelligenti come lo scaglionamento o l'allungamento della scuola nel periodo estivo. Grazie mille, la ringrazio. Gian Paolo Galli, Osservatorio sui Conti Pubblici Università Cattolica. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, grazie mille.